Sì, sì, è un piacere, sì. Quanto spesso? Più o meno 100 grammi o 120. Sì, così, vede bene. Ricco, come va? Devo parlare sempre italiano? Eh, anche in inglese, perché io metto questa roba su mio sito, così fa un po' di pubblicità. Qui c�odờ solo per fare! La Monica è stata arrivata in portare mi decisione up del preginello, ony Hz una sinistra di spaghetti, Ah sì, ma dice. Come riniglio 9? Alcate le lingueочки? Grazie a tutti, Monica, you came into the market today to get some dinner, no? So why do you come to Sartre? And maybe they have very good stuff and they are very amenable, so many stuff. And they make some things like meatballs and prepared dishes, it's a new book that does help. Excellent, excellent. quindi questo funziona per te? hai alcuni cipolli? un po' di Bartolomeo un po' di Bartolomeo, sì no, di Morro no, di Morro e di Morro e alcuni polpetti sì me la prego ok, pausa